La nuova norma è stata inserita nella nuova legge urbanistica che la Regione Marche sta portando avanti, una legge che vogliono approvare entro il mese di novembre. Sono andato a verificare e a leggere per capire come veniva trattato il piano casa, che ricordo che scadrà a fine 2023 e dal 1 gennaio 2024 sarà in vigore questa nuova legge. Devo dire che sono rimasto sconcertato perché questa norma è già stata approvata dalla Giunta regionale, quindi dal Governo regionale, quindi dal Presidente Acquaroli e dall'assessore competente, che è l'assessore Aguzzi, ma da tutta la Giunta, hanno approvato un piano casa che praticamente non fa altro che aumentare gli iteri burocratici, allungare i tempi, in molti casi non renderlo fattibile. Una norma quindi che non va né nella direzione della semplificazione, che hanno in qualche modo annunciato più volte, ma soprattutto non creerà le condizioni per applicarlo. Quindi famiglie, imprese, tutti quelli che vivono nel mondo legato all'edilizia, cioè i negozi ad esempio, chi vende mobili, ma gli stessi tecnici professionisti sono molto critici perché quindi sarà una norma che non sarà applicabile. Io ho detto, ho anche dichiarato, che mi auguro che l'abbiano approvata senza averla letta o se l'hanno letta è ancora peggio perché è veramente improponibile. So che in questo momento la Commissione sta cercando di rivedere quelle che sono le scelte che il Governo regionale ha fatto, ben venga, sono contento che verrà modificata, però resta il fatto che la Giunta regionale ha approvato una norma che ha reso veramente il piano casa impraticabile e che andrà a creare problemi in un tessuto economico come quello dell'impresa che già vive in un momento particolare perché ricordo che il bonus 110 l'attuale Governo l'ha in qualche modo sospeso e quindi oltre al bonus 110 l'altro, il piano casa che stava facendo da anni lavorare imprese, facendo lavorare i professionisti, ma dando la possibilità alle famiglie, ai cittadini di poter migliorare i servizi all'interno della propria abitazione, non avranno più questo strumento. Grazie a tutti.